Scuole dell'infanzia, il Comune di Sernia ha partecipato a due bandi del PNRR Istruzione per un totale di quattro progetti da finanziare con oltre 4 milioni di euro. Rispetto al primo bando riguardante il piano asili nido sono stati presentati tre progetti. Incremento dell'offerta di servizi per la prima infanzia mediante creazione di nuovi posti da demolizione e ricostruzione dell'asilo nido comunale in via Umbria. Miglioramento dei servizi per la prima infanzia mediante costruzione di un asilo nido sull'area comunale del Parco San Lazzaro in via Aldomoro. Incremento dell'offerta di servizi per la prima infanzia mediante la creazione di nuovi posti con la riconversione in asilo nido di Palazzo de Baggis, lungo corso Marcelli. Per quanto riguarda il secondo bando relativo al piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole il comune si è candidato con un progetto per la riqualificazione architettonica e funzionale della palestra della scuola elementare materna San Giovanni Bosco lungo corso Garibaldi. L'importo complessivo dei quattro progetti è di circa 4 milioni 260 mila euro. Lo abbiamo sostenuto dall'inizio ha dichiarato Piero Castrataro il piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta un'enorme opportunità di sviluppo e ripartenza. Stiamo seguendo e continueremo a seguire da vicino, sottolinea il sindaco, ogni singolo bando in modo da cogliere tutte le opportunità. L'obiettivo, ha commentato l'assessore comunale alla programmazione e al PNRR Maria Teresa D'Achille, è quello di migliorare l'offerta educativa fin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.